Cosa? Sono una femmina? Deve essere il corpo della mia anima gemella Non è affatto male Aspetta Ho le tette Sono così morbide Auri, ma che stai facendo? Niente Preparati per andare a scuola Hai ragione mamma Come ci vestiamo? Aia Ma che ca Mamma mi fa malissimo la pancia Non posso andare a scuola Aurora dai, non fare storie Lo sai che è ciclo Metti il tampax e vai a scuola È una scena di guerra